Come possiamo definire la squadra? Poi abbiamo pensato di essere bravi e noi non siamo una squadra che può pensare di essere brava, assolutamente, per cui abbiamo giocato una pala a canestro con poca intensità, i primi cinque minuti della partita sono stati veramente delle teri, poi abbiamo giocato in equilibrio ma non abbiamo saputo mai prendere il bandolo della Matassa in mano, troppi errori banali, difesa così così, lavoreremo in settimana perché certe cose non possono essere accettate. Mancano appunto dieci partite, come dicevi tu, un calendario che non è semplice. No, il calendario è complicato, io continuo a fare riunioni con i giocatori per far capire loro che la finestra dei play-off si sta chiudendo piano piano e poi si apre un'altra finestra che è una finestra non tanto piacevole perché porta ai play-out. Abbiamo dieci partite, molte delle teste di serie per andare in serie A vengono da noi, una è Cesena ed è la prossima partita e dobbiamo andare in casa delle concorrenti, per cui dobbiamo giocarci dei jolly assolutamente, sappiamo di essere con le spalle al muro, magari questo ci aiuterà a essere più concentrati e a giocare una pala a canestro al 100%. Grazie a tutti.